Musica Adesso c'ha contro anche la Cristina, perché? Non era fatta Perché anche lei è coinvolta con la riva di segreteria e gli dirà anche lei, ma guarda che così non ci riesce a fare Dopo quando vengono a reclamare che non c'è i pontini, che non c'è il marco Non c'è un po' cosa 4, 2, 1 in l'opera 2 4 1 3 3 Ripeto 2, 4, 1 in l'opera 3 3 3 3